Perdoni, ma Almiraghi come sta? Nardi, Almiraghi era la moglie. Come volete che stia? Un uomo distrutto. Sta soffrendo tanto. Lui cerca di non darlo a vedere, è molto forte, ma... Mi scusi, signor, sto chiamando, il dottore è arrivato. Grazie. Mi dicono che il dottore sta scendendo. Prego. Coraggio, dottore, c'è ancora una speranza. Eh no, eh no, buon uomo, non illudiamoci, lo dico a tutti, non illudiamoci. La mia Susanna non c'è più. Non illudiamoci, soprattutto tu, non illudiamoci.